Allo signor sindaco dei comuni di Lentini, mi chiamo Sebastiano, come lei che mi conosce da tanti anni, soprattutto sindaco di Lentini, soprattutto deve essere sensibile a queste problematiche. Come mai che non avete fatto niente perché ne vale una cosa vergognosa, sindaco? Avete speso 60.000 euro senza motivo, che buttate il vento, che poteva aiutare anche la gente che aveva bisogno, sindaco, di Lentini. Soprattutto che non hai il coraggio ancora di affrontare la vita a tre anni e mezzo rispetto a delle risposte, come è finita l'abbattimento delle barriere arti elettroniche, come è finita l'assistenza ai disabili, l'assistenza agli anziani, il lavoro per i disabili, soprattutto sindaco. Una cosa vergognosa, io ho mandato 8 video messaggi, a lei non mi ha mai risposto sui video messaggi, una cosa vergognosa sindaco. Lei che non ha il coraggio ancora di dimersersi perché non ha il coraggio ancora di dimersersi perché ci piace la patrona del comune di Lentini, una cosa vergognosa sindaco, deve essere intelligente su questa cosa, che lei non ha il coraggio di affrontare la vita di tutti i giorni, oggi per oggi sindaco. Io ti lascio il tuo messaggio sindaco e auguro che mi darai qualche risposta.